La prima scena è mentre mi faccio... aspetta no no eh no perché non sono proprio... Allora buongiorno a tutti signori L'altra volta in un senso antiorario Che solo noi possiamo ricevere l'ipnosi sorrentina della notte della diabolica Fondamentalmente perché Adesso ve lo spiego, vi presento un nostro soggetto ambiguo, molto ambiguo Venite con me ragazzi